Buongiorno, rasegna stampa di oggi lunedì 24 luglio, giornali del lunedì insomma sono un po' moschetti. Il tema della giornata resta essere la siccità che coinvolge 10 ragioni. Col diretti come è suo pari, come fa al solito, spara i numeri. E' già piazzato il numero bello tondo, 2 miliardi di perdite derivanti dalla siccità. Cioè sulla siccità, come sempre avviene per le cose italiane, oggi titola mi sembra il Corriere o anche il Messaggero. Cosa succede? Adesso vi dico la frase tipica. La questione siccità rischia di finire in procura e allora siamo a posto. Come sempre avviene in Italia, è sempre una roba di procure, è sempre una cosa di GIP, di PM, di indagini, di possibili interessi di qualcuno, retropensieri. Anche la questione siccità va a finire in procura. Vi dico che cosa succederà fra pochi giorni sui giornali. Sta scritto, ci sarà l'afa killer, perché la siccità non è una cosa che c'è quest'anno. Avviene spesso, ce lo dimentichiamo, ma spesso in Italia, soprattutto al sud, non piove. Poi ci sarà il riscaldamento climatico, ci sarà Donald Trump che renderà le cose ancora peggiori. Però spesso in Italia, alla fine, in questa stagione non può. E chi fa l'agricoltore ben conosce questa vicenda, purtroppo, della siccità in Italia. Ma comunque sia, finirà in procura. Quello che succederà ad agosto sarà l'afa killer, in cui delle persone anziane, purtroppo, moriranno per questa afa killer. I telegiornali racconteranno dell'afa killer, ci saranno delle speculazioni sull'afa killer e anche questo agosto verrà fatto. Cosa succederà a settembre? A settembre ci saranno delle piogge torrenziali che andranno a finire sui boschi distrutti durante gli incendi precedenti all'afa killer e alla siccità. Altra cosa che avviene tutti gli anni. Polemica sui forestali che non hanno fatto il loro mestiere. Cosa che avviene tutti gli anni. E questo è il tram tram solito per il quale i giornali d'estate si nutrono di queste quattro notizie. Incendi, siccità, afa killer e poi alla fine dell'estate arriveranno, come si dice, purtroppo le inondazioni. Insomma, mi viene abbastanza da ridere perché in realtà queste vicende non sono gravi, sono gravissime, ma hanno un loro colpevole che non sono Laraggi, non sono Zingaretti, non sono Lappendino, non sono Beppe Sala o i sindaci del sud. Probabilmente possono anche far meglio anche loro, ma non è questo il punto. Non si può attribuire a un sindaco che fa da sei mesi quel lavoro la responsabilità della solita siccità che c'è e della mancanza. Certo, a Roma quest'anno è una situazione peggiore rispetto agli anni precedenti, ma quello che vi è di responsabilità, e lo capiamo benissimo leggendo oggi il pezzo straordinario di Giuseppe Marino, che è un colonnino misero, misero, ma molto intenso del giornale, è che noi sull'acqua abbiamo gestito un referendum demagogico di sinistra pensando che l'acqua dovesse essere pubblica, non rendendoci conto che anche il pane dovrebbe essere pubblico perché è altrettanto essenziale, anche lo zucchero forse dovrebbe essere pubblico fino a quando non lo considereranno un pericoloso veleno. Insomma, quello che voglio semplicemente dire è che la gestione pubblica dell'acqua è stata un fallimento, e il referendum ha reso quel fallimento ancora peggiore perché ha paralizzato completamente gli investimenti che sono fondamentali nel settore dell'acqua. E quindi che cosa si fa? Si fa, come dice Giuseppe Marino, Fulco Pratesi, che dice non fate la pipì in casa, che carino l'idea di non fare la pipì in casa, ma non tutti possono andare a fare pipì fuori, tra l'altro in Italia, e l'hanno raccontato qualche giorno fa, un turista che si è permesso di fare pipì in un angolo di una strada è stato moltato, quindi non è facilissimo non fare pipì in casa, così come non è facilissimo riciclare l'acqua della propria doccia con degli scatoloni, con delle bacinelle. L'altra cosa che hanno raccontato è, spegniamo quella che a Roma si chiamano i nasoni, cioè le fontanelle, e dice Giuseppe Marino solo il 15% del consumo totale di acqua è quella dell'acqua domestica potabile. Insomma, il tema fondamentale è che l'acqua è una risorsa scarsa, come tutte le risorse scarse gli economisti dicono deve avere un prezzo, e come tutte le risorse scarse il prezzo serve a dare un'informazione banale sulla sua più o meno scarsità. Se noi ci inventiamo che è un bene pubblico e quindi non è scarso, e quindi è consumabile all'infinito, e quindi non ci sono problemi nella sua gestione, raccontiamo una balla agli italiani, una balla demenziale, qua dicono dementi. E quindi cosa succede? Succede una cosa semplicissima, che a Roma c'è il 45% di dispersione idrica, 45%, che è un dato folle, la CEA, lo ricordavano oggi i giornali, ha, e l'azienda municipalizzata che gestisce l'acqua, ha staccato un assegno da 70 milioni di utili al comune, che ovviamente li ha usati per pagare il suo funzionamento e non per fare quello che dovrebbe fare, e cioè investire, ma non è colpa della raggi, l'hanno fatto tutti i comuni, nel miglioramento delle strutture idriche, per cui si perda meno acqua. Noi disperdiamo acqua, è una cosa da, in un paese che soffre ciclicamente di siccità, è una cosa da pazzi. Qui ci vuole più privato, più manager, più rischio, più imprenditoria, non il contrario. Vabbè, ovviamente, imprenditoria, manager, cose che vengano controllate dal settore pubblico, che gli facciano un mazzo così quando sbagliano. Sull'acqua venne parlata a sufficienza, oggi mi ha stupito il pezzo di Gian Antonio Stella, perché, vedete, Gian Antonio Stella ci ha raccontato fino ad oggi che è a favore dello Iussoli, cioè della legge che prevede la cittadinanza. Oggi mi leggo un pezzo, una fondessa sul Corriere della Sera, in cui lui prende per i fondelli e sbertuccia Matteo Renzi, perché dice che ha reso la questione dello Iussoli uno slogan e quindi lo ha reso antipatico. Cioè, sostanzialmente, ve la faccio breve, non è scritta in maniera così poco sofisticata, perché Stella è un grandissimo giornalista, ma la sostanza è, se Renzi dice di essere a favore dello Iussoli, gli italiani sono contro lo Iussoli, perché lui rende tutto uno slogan e sbaglia. Allora, io, a parte il fatto che vi ho semplificato un articolo che è molto più complicato e non si riesce neanche a capire, ma il punto fondamentale è, ormai Renzi potrebbe anche dire la cosa, non so, il cielo è blu e la gente e alcuni osservatori gli direbbero, ma tu sei mafioso, è colpa di tuo padre, Lotti è quello che te l'ha consigliato, ci vuoi guadagnare, fai schifo, lo dici male. Succede quando uno ha un atteggiamento arrogante come quello di Renzi, ovviamente, di odiare tutto quello che lui dice. Ma, insomma, quando io mi leggo Stella, che ci ho raccontato fino a ieri, che lo Iussoli è una cosa sacrosante di civiltà, che se la prende perché dice che Renzi è la stessa cosa su un tweet, beh, dico, allora veramente non capisco nulla, forse è un inizio di riposizionamento giornalistico invece che politico da parte di Renzi. Molte movimenti della politica, oggi lunedì i giornali sono pieni di politica, beh, insomma, ci sono due tipi di questioni politiche, una che riguarda il centrodestra e quindi oggi riesco a leggere un'intervista all'ex portavoce di Forza Italia, lui è stato per 18 anni, buon aiuti, che io non ho conosciuto se non superficialmente, il quale, non facevo il giornalista, il quale è passato con Alfano nel nuovo centrodestra e oggi mi sembra di capire che dice posso ritornare, potrei ritornare al Cavaliere, sono contento perché mi ha chiamato il 7 luglio, il giorno del mio compleanno. Il Cavaliere è straordinario, riesce a chiamare tutti il giorno del compleanno, ha questa specie di capacità disumana di perdonare chiunque, che è una grande capacità che il Cavaliere evidentemente ha, ma la cosa che mi impressiona è non tanto quello che tutti quanti potranno dire, ritornano i traditori dal Cavaliere eccetera, ma una persona che ha 77 anni, ha fatto per 18 anni il portavoce del Cavaliere, durante l'ultima legislatura ha deciso di rompere con il Cavaliere, quindi immagino che sia stata una rottura forte per lo stesso buon aiuti, quando scade la legislatura perché non si occupa dei nipotini? Perché non smette? Perché non finisce? Perché non si toglie dal Parlamento dove scade e lascia perdere? Ma non lascia spazio ai più giovani, ma lascia spazio ai più vecchi, cioè la sua strada l'ha fatta e l'ha sbagliata, perché se per 18 anni ha seguito il Cavaliere e ne è stato il suo migliore interprete, poi lo lascia e poi ritorna, almeno ci possiamo porre un dubbio che un elemento di disordine mentale ci sia in quello che è successo. E allora se questo disordine mentale c'è stato, a fine legislatura, ai 77 anni, lascia che le cose continuino, occupati dei tuoi nipoti, fai dei libri, dei saggi, scrivi delle cose importanti sui giornali che sono sicuramente ottimi, visto le capacità che Bonaiuti aveva, invece no, lui a 78 anni verrà e vorrà essere ricandidato e quindi oggi si riavvicina al Cavaliere che gli potrebbe dare la possibilità di ricandidarsi. Benissimo, questa è anche la politica, così come anche la politica altrettanta ridicola, mi sembra questa cosa di Pisapia, sapete cosa ne penso di Pisapia, ho trovato ridicola la cosa che lui abbia detto non mi canti dopo aver fatto tutto quel po' di casino nelle sue cose, ma quando oggi vedo che tutti i giornali si interrogano in intervista, mi sembra anche la Chiara Geloni, sulla necessità che Pisapia abbia o no abbracciato la Boschi in un incontro dell'altro giorno, la politica della sinistra si è ridotta all'abbraccio, e cioè il fatto che Pisapia dovrebbe essere un nemico della sinistra e quindi non può abbracciare da Boschi e Pisapia a buon gioco, oggi è il titolo di Repubblica dire il nostro nemico non è il PD e a buon titolo oggi Sallusti di dire questi della sinistra hanno una rotella che non gli va, nel senso che anch'io l'altro giorno dice Sallusti ho incontrato la versiliana Carrai che è l'uomo più forte dell'entourage di Renzi che certo io non amo ma gli ho stretto la mano, non penso che qualcuno si possa lamentare con me se stringo la mano a Carrai. La generazione dei ragazzi nati negli anni 80 andranno in pensione a 73 e l'inchiesta del Corriere della Sera, io non sono nato negli anni 80 ma negli anni 70 e devo dire la verità che anche per quanto mi riguarda lì andremo a finire a 70 anni in pensione, d'altronde abbiamo beccato tutto in faccia la cosiddetta riforma Dini per cui quello che versiamo dovrebbe essere quello che riceviamo e quindi inevitabilmente in maniera matematica andremo in pensione molto tardi. Si riduce la popolarità di Macron, oggi è interessante il pezzo di Livio Caputo, cioè il mito di Macron, guardate che passerà poco, se vi andate a guardare le mie zuppe dopo che vinse Macron, ma anche le puntate di Matrix ve lo dissi, Macron come Zapatero, come Tsipras, come questi miti dell'eurosocialismo, dell'euro che sa che cosa europeo, gli italiani li amano alla follia quando si rendono conto, come dice Livio Caputo, che sono molto meno tosti di quello che si immagini e nel caso di Macron molto più anti italiani di quanto si potesse immaginare, guardate come la loro popolarità, ovviamente prima in casa, ma anche a casa nostra, vada scemando. Il libero è molto interessante per chi ha voglia di leggerselo, il battibecco tra il portavoce della Tim e Vittorio Feltri sulla liquidazione da 40 milioni dell'amministratore delegato della Telecom che esce dalla Telecom che oggi si chiama Tim dopo un anno di lavoro, la Telecom è in condizioni molto migliori, ma dice Feltri se tu sei così bravo dovresti rimanere, non ti possono pagare per uscire e dice la Tim, quello era un contratto che avevamo stabilito e firmato tra tutti, leggete libero per capire chi ha ragione, direi che per oggi è tutto e noi ci diamo appuntamento da domani, un po' più tardi perché avrò un po' di fuso orario con gli Stati Uniti, quindi se riesco a fare questa zuppa, ma certamente la farò nel pomeriggio, un abbraccio e potrete vedere sempre la zuppa e ricordatevi di andare a guardare la mia pagina YouTube dove ci sono video che non ci sono qua sulla pagina di Facebook, su YouTube, ho un canale che potete guardare con tranquillità e ovviamente il sito nicolaporro.it in cui ci sono tutti i miei appuntamenti e articoli. Graziano Berti dice campagna acquisti di Forza Italia, meglio quella del Milan, con questa battuta vi saluto a domani, grazie per di Maddalena che mi dice have a great trip, bye bye.